Chiediamo anche a lei un'analisi della partita, una situazione che per la formazione che lei appunto allena si fa sempre più complicata. Sì, beh, visto il risultato di oggi sicuramente stiamo perdendo posizioni in classifica. Però diciamo che la partita è stata combattuta, abbiamo dato del filo da torcere alla prima in classifica, e soprattutto l'atteggiamento del secondo tempo è stato un atteggiamento più coraggioso e più combattivo. Quindi ripartiamo dal secondo tempo di oggi e niente, bisogna lavorare per cercare di mettere a posto quei piccoli problemi che abbiamo. Altro non si può fare. Fiducia, perché insomma, come sempre, le mie squadre sono belle, combattive, generose. Insomma, anche oggi penso che per l'Arezzo non è stata poi così morbida. Quindi questo ci deve servire da stimolo per migliorare quello che c'è da migliorare e guardare il resto del campionato in un'ottica che deve vederci, insomma, assolutamente protagonisti nelle prossime partite, soprattutto dal punto di vista dei risultati.